Il vortice depressionario che nelle ultime 24-36 ore ha determinato un repentino cambio di circolazione su tutta la nostra penisola va allontanandosi verso la Grecia e Turchia. Precipitazioni anche intense hanno interessato la nostra regione nella giornata di giovedì determinando anche molte criticità a livello idrogeologico. Inoltre con il ricambio d'aria le temperature hanno subito una vistosa diminuzione con valori che si sono portati di alcuni gradi al di sotto della media stagionale. Nelle prossime ore avremo ancora condizioni di instabilità con precipitazioni che impegneranno le aree interne montuose. Intanto però una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale è già in atto sul Mediterraneo occidentale e nel corso dei prossimi giorni causerà un'intensa ondata di caldo sulla penisola iberica. Dunque l'Italia questa volta verrà interessata marginalmente dall'onda calda per cui non registreremo temperature particolarmente elevate. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Domani sabato 11 giugno cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Temperature in graduale aumento, venti moderati da nord-nordest e mare poco mosso. Domenica 12 condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno ovunque. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori massimi compresi tra i 27-28 gradi centigradi della costa e i 30-31 delle aree interne. Venti tra deboli e moderati da nord e mare quasi calmo o poco mosso. Nei primi giorni della prossima settimana non avremo grossi cambiamenti con alta pressione che seguiterà ad interessare il Mediterraneo occidentale coinvolgendo solo parzialmente la nostra regione. Tuttavia avremo condizioni di bel tempo con caldo moderato. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.